Da un recente studio risulta che bere esta tè in prossimità di una spiaggia contribuisca ad aumentare il livello delle onde di almeno 50 centimetri. Se la cosa non funziona non fatene una tragedia. Potete sempre contare sul gusto unico e inimitabile di esta tè. Esta tè. Tè best. Grazie a tutti.